Sii consapevole, sei responsabile, alvia la campagna di informazione e sensibilizzazione sulle responsabilità del committente nell'affidamento dei lavori edili in ambito privato. Una campagna a cui è aderito il Comune di Spoltore che ha sottoscritto un accordo con la Cassedille di Pescara. E questa iniziativa è veramente lodevole perché consente di approfondire il discorso della sicurezza sui luoghi di lavoro, della lotta al lavoro nero che sono non solo il primo tassello per raggiungere un livello di civiltà incomiabile ma anche per garantire la salute dei lavoratori e evitare le conseguenze che molto spesso costano in termini di costi sociali, di vite umane, costano troppo per la nostra società. Questa campagna informativa sulla committenza, sui doveri e le responsabilità della committenza credo che vada orientata verso queste persone, a parte le aziende, le ditte e le istituzioni ma vada orientata soprattutto verso quelle persone che inconsapevolmente scelgono una ditta non idonea per fare il loro lavoro. Grazie.